Musica Oltre 200 trattori fino a tardanotte in corteo sul grande raccordo anulare di Roma, il ministro Lollobrigi dà porta all'attenzione del governo, ma il presidio alle porte della capitale rimane. Ancora morti e feriti a Gaza, a Gaza Israele continua le sue operazioni militari nel sud della striscia, colpita Rafa e un ospedale a Cannes e Yunis. Crescono le partite IVA in Italia, sono oltre 5 milioni più social manager e amministratori di condominio, ma calano artigiani e agricoltori. Buongiorno, benvenuti al TG2000. In apertura di telegiornale dunque la protesta degli agricoltori, che con i loro trattori hanno trascorso buona parte della notte in corteo sul grande raccordo anulare di Roma al presidio di Via Nomentana l'incontro con il ministro Lollobrigida tra consensi e contestazioni. Beatrice Bossi È stata una lunghissima notte per gli agricoltori, la sesta trascorsa al presidio di Via Nomentana tra i loro trattori con le luci accese ancora sui problemi del settore. Siccome fino a oggi ci siamo importati come per indole siamo, cioè dei signori, anche ora c'è qui il ministro dell'agricoltura e comportiamoci come tali. Dopo un travagliato pomeriggio di incontri e trattative, ieri sera il ministro Lollobrigida è arrivato a sorpresa sulla collina, alle porte di Roma. Accolto tra applausi e arrosticini, ha preso il microfono e parlato ai contadini arrivati qui da tutta Italia. Io quello che vi posso garantire è l'impegno. Noi non siamo disponibili a rinunciare all'agricoltura. L'esenzione dell'IRPEF per i redditi più bassi è la voce di bilancio più importante che sarà inserita dal governo nel decreto mille proroghe la prossima settimana. Un altro traguardo raggiunto dagli agricoltori dopo il dietro front dell'Europa sul regolamento dei pesticidi. Ma non basta, dicono, e accendono i motori per marciare sul grande raccordo anulare. Oltre 200 trattori danno forma al corteo scortato dalle forze dell'ordine lungo i 70 chilometri di anello stradale che circonda la capitale. Lenti e inesorabili, a 30 chilometri all'ora alle 3 di notte i contadini tornano sulla collina di Viano Mentana per salutare l'inizio di un nuovo giorno di protesta. Adesso andiamo in Ucraina nella notte attacchi russi su diverse città colpite anche Odessa e Kharkiv dove si contano morti e feriti. Alessio Orlandi. Le fiamme avvolgono le case e illuminano di terrore la notte di Kharkiv. L'Ucraina è stata svegliata di nuovo da un altro pesante attacco russo. 31 droni kamikaze hanno preso di mira la zona est del paese e la regione di Odessa. Un velivolo senza pilota ha colpito una stazione di benzina causando un enorme incendio che ha investito 15 edifici residenziali. Sette persone sono morte, tra cui un'intera famiglia con tre bambini di 4 e 7 anni e un neonato di 6 mesi rimasti bruciati nel rovo che ha avvolto la loro abitazione. Almeno 50 civili sono stati evacuati dalle case. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono andate avanti per tutta la notte. Diversi feriti rimasti ustionati o intossicati dal fumo. I russi pagheranno per tutto questo. Le parole di rabbia del capo dell'ufficio presidenziale ucraino Yermak che fa sapere come Kiev si è riuscita ad abbattere 23 dei 30 velivoli senza pilota lanciati da Mosca che a sua volta rivendica di aver distrutto nella notte tre droni ucraini diretti nella regione russa di Bryansk. Putin si calma solo con la forza. Dateci altre armi. L'appello del presidente ucraino Zelensky agli Stati Uniti dopo l'intervista del leader del Kremlino Putin che invitava Washington a smettere di fornire armamenti a Kiev per far finire la guerra. Intanto Zelensky va avanti nel cambio ai vertici militari. Dopo la disegnazione di Sirski come comandante in capo delle forze armate al posto di Zaluzny il leader di Kiev ha nominato capo di Stato Maggiore il generale Bargilievich. La Nato non vuole una guerra con la Russia ma dobbiamo prepararci a un confronto che potrebbe essere decennale afferma il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg invitando i paesi membri ad aumentare più rapidamente la produzione militare. Altro fronte caldo quello medio orientale ancora attacchi israeliani a Rafa nel sud della striscia vittime feriti anche in un ospedale di Khan Yunis. Trovata morta la bimba palestinese di sei anni che telefonò chiedendo aiuto dispersa dopo l'uccisione dei suoi familiari. Maurizio Dischino Nella notte attacchi a Rafa. Dalle prime ore di stamani fuoco contro i civili all'ospedale di Khan Yunis. Inarrestabile la macchina di guerra israeliana nel territorio palestinese della striscia di Gaza. Oggi una donna è stata uccisa da un cecchino israeliano davanti al cancello d'ingresso dell'ospedale Nasser di Khan Yunis. Altre tre persone sono rimaste ferite. Pesantissima la contabilità dei morti in più attacchi messi a segno dai militari israeliani durante la notte nella striscia di Gaza. 110 le persone uccise, tra cui 25 solo a Rafa nel sud della striscia, dove hanno trovato riparo circa 1,3 milioni di sfollati palestinesi sofferenti per la distruzione delle case e per le condizioni in cui vivono sotto le tende a causa della guerra. Sugli sfollati adesso incombe la minaccia di evacuazione da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il quale mercoledì ha ordinato al proprio esercito di preparare un'offensiva anche su Rafa per eliminare quattro battaglioni di Hamas. E questo, secondo Netanyahu, richiede l'evacuazione dei civili dalle zone di combattimento. Medici Senza Frontiere ha chiesto al governo israeliano di fermare immediatamente l'offensiva su Rafa. Sarebbe catastrofica, si legge in un comunicato dell'organizzazione umanitaria, la quale ha denunciato che nessun luogo aggazza il sicuro e i ripetuti spostamenti forzati hanno spinto le persone a Rafa, dove sono intrappolate in un piccolo fazzoletto di terra senza avere alternative. Oggi 10 febbraio, giorno del ricordo in memoria dei quasi 20 mili italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe nel secondo dopoguerra durante l'esodo istriano. Questa mattina celebrazioni a Trieste con la Premier Meloni e il Ministro degli Esteri Tagliani. Leonardo Possati. L'Italia onora la memoria di chi fu vittima di quegli orrori disumani e non dimentica il dolore patito di chi fu costretto ad abbandonare la propria casa e la propria terra per amore dell'Italia. È il messaggio con il quale Giorgia Meloni ricorda il dramma delle foibe. Dal 2004 questa tragedia venne commemorata con un'apposita giornata del ricordo. Per celebrare la Premier è andata questa mattina con il Ministro Tagliani al Monumento Nazionale di Basovica a Trieste, uno dei luoghi simbolo di quanto accaduto. Ieri il Presidente Mattarella ha parlato di muro di oblio e negazioni. Per anni, ha aggiunto il Capo dello Stato, abbiamo assistito a un inaccettabile stravolgimento della verità. Per decenni le violenze commesse dai partigiani comunisti yugoslavi contro chiunque si opponesse all'instaurazione del loro potere rivoluzionario nell'area estriano Dalmata sono state negate. Crimini compiuti soprattutto contro gli italiani, uccisi o gettati vivi nelle foibe, le profonde cavità naturali tipiche della Venezia Giulia, oppure morti nei campi di concentramento comunisti in Yugoslavia. Per non rimanere sotto il regime di Belgrado, la grande maggioranza della popolazione italiana di quelle terre abbandonò allora le proprie case. Gli esuri furono circa 300.000. La questione dell'esodo Giuliano Dalmata per decenni è stata scomoda sia per il PC sia per le altre forze politiche che guardavano alla Jugoslavia, nostra vicina di casa, sulla frontiera orientale. Da condannare invece il violento gesto di chi a Firenze ha distrutto la targa in memoria delle vittime delle foibe nella piazza dedicata ai martiri dell'Istria e della Venezia Giulia. La targa era stata ripristinata proprio pochi giorni fa dopo un precedente atto vandalico ed è stata rotta di nuovo oggi. 18 perquisizioni a Napoli, Salerno, Caserta e Livorno a carico di altrettanti indagati in concorso tra loro per truffa aggravata. Il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato contro le truffe su conti correnti attraverso messaggi e telefonate di phishing. Le indagini, durate circa un anno, sono partite dalla querela di un ottantenne milanese che si è visto portare via oltre 240 mila euro, convinto da falsi messaggi del proprio istituto bancario. Ancora cronaca, un trasportatore di 59 anni è stato ucciso la scorsa notte a Coltellate a Seano, in provincia di Prato, dove ieri sera era andato con il suo furgone per acquistare abiti da esportare poi in Germania. Originario dell'India, viveva nella zona di Mantova, a trovarlo ormai morto il figlio. Secondo i carabinieri si tratta di un omicidio a scopo di rapina. I due killer, due scusate, i killer cercati dalle forze dell'ordine. E dopo, cambiamo argomento, dopo gli anni bui della pandemia di Covid, torna a crescere il popolo delle partite IVA in Italia. Secondo i dati pubblicati oggi dalla CGA di Mestre, nel 2023 sono oltre 5 milioni. Aumentano i social manager e gli amministratori di condominio, diminuiscono invece artigiani e agricoltori. Caterina Dall'Olio. Dopo il 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia, le partite IVA in Italia sono tornate ad aumentare. Oggi la platea è stabilmente sopra i 5 milioni di lavoratori effettivi. Non tutte le categorie appartenenti al mondo del lavoro autonomo, però godono di buona salute. Anzi, molte professioni sono in difficoltà e il loro numero sta diminuendo. Un recente studio della CGA di Mestre segnala, in particolare, i lavoratori autonomi classici, come gli artigiani, piccoli commercianti, gli agricoltori, in tutte le regioni italiane, ma in particolare nel nord e nel centro Italia. Dopo il Covid, il popolo delle partite IVA è tornato ad aumentare, grazie alla crescita del PIL e alle novità fiscali. Infatti, l'introduzione del regime forfettario per le attività con ricavi inferiori agli 85 mila euro ha reso meno gravoso di un tempo gestire fiscalmente un'impresa improprio. Sia chiaro, nessuno di questi operatori chiede alla politica aiuti o prebende, ma solo l'eliminazione di quegli ostacoli che frenano lo sviluppo di queste attività. Diversamente sono in espansione le cosiddette partite IVA non regolamentate, come i web designer, i social media manager, i formatori, i consulenti, i pubblicitari, ma anche gli amministratori di condominio. Tutti i lavori in grande sviluppo grazie anche all'ormai stabilizzato e riconosciuto smart working, ovvero il lavoro in formula agile. Negli ultimi 40 anni il mondo delle partite IVA è diventato centrale in molte regioni del paese, una componente strutturale del nostro sistema economico, soprattutto a nord-est. Siate artigiani di pace e di umanità, così Papa Francesco ricevendo oggi in udienza le delegazioni di Confartigianato arrivate da tutta Italia. Le vostre attività valorizzano ingegno e creatività. Non scoraggiatevi nell'offrire posti di lavoro e non abbiate timore a includere anche le persone fragili, ha detto ancora il Pontefice. Adesso andiamo in Senegal, dove continuano le tensioni dopo il rinvio delle elezioni presidenziali nella capitale Dakar, violenti scontri tra polizia e manifestanti. Paolo Fucili. Le armi sono pietre e lacrimogeni a Dakar, dove manifestanti e polizia si fronteggiavano ieri così. E a San Luis, nel nord, c'è anche una vittima, un giovane studente. Una violenza che il Senegal mai aveva sperimentato prima, dice bene quest'uomo, ex colonia francese come gran parte dell'Africa occidentale, indipendente dal 60. Da allora infatti non ha mai conosciuto né colpi di Stato né ingerenze in politica delle forze armate, caso rarissimo nel continente nero. Ma adesso, protesta un altro, il presidente, Maki Sal, fa quel che vuole. È un dittatore, gli fanno eco attorno. Le previste elezioni del 25 febbraio, annunciato una settimana fa, sono ufficialmente rinviate. Si terranno a dicembre, ha deciso poi il Parlamento, dopo il caso di dieci candidature bocciate dal Consiglio Costituzionale, compreso Karim Bade, figlio di un ex presidente senegalese, ma non sarà in lizza neanche Ousmane Sonko, molto popolare tra i giovani, in carcere per diffamazione e ineleggibile per cinque anni. I suoi processi in tribunale e l'arresto a luglio scorso avevano già provocato proteste, decine di morti e accuse di giustizia manipolata. L'Unione Europea si dice preoccupata, così come molti osservatori internazionali, tanto più che nei dintorni son tre, in anni recenti i colpi di stato già avvenuti, Niger, Mali e Burkina Faso. E oggi serata conclusiva del Festival di Sanremo, tra i protagonisti anche Neck e Francesco Renga, che con la loro canzone Pazzo di te provano a raccontare l'amore alle generazioni. Ne ha incontrati per noi Francesco Durante, vediamo. Renga e Neck, 70 anni di carriera in due, debuttanti al Tessia con questa formazione. L'anagrafe, vogliamo dare dei numeri, 15 Sanremo in due, già partecipazione a Sanremo. Lui 5, beh 10 con anche questo, il quinto per me, il decimo per lui, bello dai. Dopo la sperimentazione sui palcoscenici di tutta Italia, qui a Sanremo. Da questo palco sono partite tante canzoni che poi ci hanno reso famosi, insomma. Quello che siamo, dei vecchi. Continuate con questa formazione? Sì, continuiamo questa formazione perché ripartirà un tour, adesso in estate, già in estate avremo le prime date, molto belle in posti esotici di mare, dei festival. Dopo invece quest'autunno riprendiamo con l'Indoor, abbiamo quattro date a Milano, tre date a Bologna e due a Roma per ora. Qual è il valore aggiunto di cantare insieme? Beh, insomma, il bello di poter cantare le canzoni di Francesco, quindi la melodia. Io non sono abituato a quel tipo di melodia e quindi è stato come imparare qualcosa di nuovo e poi... Il suo senso del ritmo, il suo cantare così serrato, ognuno impara dall'altro e la cosa bella è che il risultato non è mai la somma dei due, ma è qualcosa di totalmente annatto. E con questo è tutto, vi ricordo che anche questa edizione del nostro telegiornale può essere rivista sull'app Play 2000. Adesso spazio a Borghi d'Italia, Mario Placidini oggi ci porta alla scoperta di Santo Stefano del Sole in provincia di Avellino. Prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, alle 14.55. Grazie per averci seguito, arrivederci.